un caro saluto sono paola uno degli operatori di somatic experiencing in italia sarà la mia voce ad accompagnarti durante l'esperienza di oggi l'argomento è io sono connessa connesso a me stesso al mio corpo alle mie emozioni e le mie risorse le risorse sono tutto ciò che aiuta o sostiene il nostro benessere fisico emotivo mentale e spirituale possono essere evidenti o nascoste attive o dimenticate esterne o interne ora cominciamo a entrare in questa esperienza prendi qualche istante per arrivare a questo momento che hai preso per te ti trovi nel tuo spazio sacro lo spazio dove in questi giorni hai scelto di stare con te stesso in questo percorso in questa esplorazione come ti trovi qui e ora cosa noti che accade in te mentre sei qui ti invito a prendere questo tempo per rallentare ritrovarti e connetterti con te stesso puoi portare l'attenzione verso i tuoi piedi che sono in contatto con il pavimento al bacino accomodato sull'appoggio che hai scelto come sarebbe permettere al peso del tuo corpo di scendere ancora un po' come se il senso del peso fosse un liquido denso che lentamente può sciogliersi colare e scendere verso le superfici di appoggio lascia il tempo necessario al tuo corpo per poterti rispondere con una sensazione il corpo segue percorsi lenti e sottili se puoi rimani in ascolto forse puoi portare attenzione anche alla tua schiena che è appoggiata quali risposte arrivano dal tuo corpo mentre senti questi contatti che ti sostengono ora ti invito a orientarti nello spazio in cui ti trovi magari lo osservi nota la qualità della luce delle forme dei colori i mobili e gli oggetti che ti circondano forse ci sono dei profumi degli aromi che hai scelto per accompagnarti nota cosa cambia in te mentre rimani in contatto con questo spazio sicuro e pacifico forse anche silenzioso osserva se inizia ad accadere qualcosa al ritmo e o all'ampiezza del respiro potrebbe essere che qualche parte del corpo comincia a sentirsi un po più comoda o magari appare una sensazione di peso nelle braccia nelle spalle nelle gambe come se fosse possibile un maggior contatto con la forza di gravità ancora una volta torna a osservare il respiro come è in questo momento mentre gli permetti semplicemente di accadere il respiro accade continuamente senza fare nulla l'aria entra riempie parti del nostro corpo e poi esce liberandole poi di nuovo entra passando attraverso le narici nella gola il torace si espande e nuovamente esce segue un movimento spontaneo in cui non c'è nulla da fare mentre rimani in questo spazio di connessione con te stesso ti invito a scegliere uno di questi suggerimenti puoi trovare nella stanza un oggetto un elemento che ti piace e che rappresenta per te una risorsa potrebbe essere un cuscino una coperta un'immagine che hai appeso alla parete o forse accanto a te c'è il tuo animale domestico magari affiora un ricordo piacevole di qualche momento della tua vita in cui sei stato proprio bene o magari hai una melodia un suono particolarmente evocativo per te o ancora puoi assumere una posizione comoda per il tuo corpo in questo momento una posizione anche diversa da quella che hai assunto finora quando hai trovato il tuo elemento di risorsa tra questi prendi il tuo tempo per assaporare le sensazioni che arrivano rimani in questa connessione cosa noti in te ora? cosa noti in te ora? quali sono le sensazioni che arrivano alla tua consapevolezza? e se rimani ancora un po' in ascolto fino a dove possono espandere nel tuo organismo queste sensazioni? un po' come quando si lancia un sasso nell'acqua e le onde a poco a poco con dolcezza si allargano sulla superficie e si diffondono in profondità fino a dove è possibile lasciare spazio in questo momento a questa piacevolezza permetti tempo e spazio al processo di connessione che sta avvenendo lentamente quando ti senti pronto ti invito a riprendere contatto con i punti di appoggio del tuo corpo in questo momento a muovere gentilmente le dita dei piedi delle mani e a portare nel corpo e a portare nel corpo dei movimenti dolci e delicati se hai chiuso gli occhi permetti alle palpebre di socchiudersi e lasciare entrare un po' di luce kolore nota le forme che iniziano ad apparire i colori sei nel tuo spazio al sicuro mentre porti in te questa nuova esperienza di connessione grazie grazie grazie